ciao a tutte ragazze questo nuovo video molto veloce dove voglio farvi vedere un'idea regalo ho fatto questa scatola ho messo all'interno dei prodotti naturalmente in questa box i prodotti all'interno sono studiati per la persona che la riceverà non sono prodotti così a caso sono prodotti quasi tutti testati da me piaciuti e adatti al tipo di pelle e capelli in genere del corpo insomma quello è della persona io in questa scatola ho attaccato anche questo decoro che non vi faccio leggere perché è personale dove c'è scritto vabbè tanti auguri di compleanno ci sono questi decorini con i cuoricini vedete è una dedica particolare per lei all'interno di questa box i prodotti si presentano in questo modo vedete ho messo un'acqua micellare della dermolab sapete che io sono patita di questa marca un tonico a tempo della dermolab una maschera opacizzante per pelli grasse una maschera una crema mani per pelli secche i cerotti per il naso per i punti neri la crema olio straordinario dell'elvive e il profumo questo del toilette della bottega verde limone agrumi come potete sentire Angelica si è svegliata come ha una bellissima voce ha una bellissima vocina in questi giorni si pone le mani in bocca bavetta urla secondo me sta facendo il cambio della gengiva perché si sentite si lamenta ma non ha mal di pancia è lì che sta dormicchiando lì tanto si sveglia le mani in bocca urla ma ho messo il prodotto per Angelica amore poi si arriva mamma e niente vi stavo dicendo ho messo quindi due prodotti per lo struccaggio perché so che lei si trucca appunto quindi un'acqua micellare per i per per poter struccare tutto il viso e non aver bisogno di altro un bel tonico per rinfrescare e chiudere tutto alla fine una maschera purificante per per peli con accesso di sebo so che tende un po' a lucidarsi nella zona T come poi tutte noi quindi questa maschera spero che lei ti risolvi un po' il problema ha messo che il problema ci sia comunque un paccizzante e si fa sempre comodo una crema a mani della caloderma per palle normali secche perché lavora all'aperto quindi insomma sicuramente una crema a mani le farà comodo e questo i pacci cosmetici per i punti neri perché so che ha dall'estetista farsi la pulizia del viso quindi tra una pulizia e l'altra magari lo comprate che per me aiuta a mantenere l'effetto anche perché punti neri nel senso che anche solo le impurità che rimangono sulla pelle qui dal naso vicino ai pori dilatati quando ci si trucca un po' di spulcizia rimane aiuta a rimuoverla l'olio crema straordinario come vi ho detto per che so che lo voleva provare l'olio straordinario mi consiglio la crema l'olio in crema perché secondo me è migliore e poi infine che prima vi dicevo un po' velocemente mentre Angelica ci urlava nelle orecchie l'acqua profumata della bottega verde limoni e agrumi ve la faccio vedere perché questo ha un odore buonissimo la volevo comprare per me ma poi ho deciso costa un pochino troppo secondo me per io volevo comprare anche per me ma costa come quasi il profumo che utilizzo io che lo trovo sempre in offerta io e quindi ma devo risparmiare un po' quindi l'ho presa e mi fa piacere regalarla a lei è bello anche il packaging così introsparente ma anche opaco il profumo adesso non lo spuzzo perché lo voglio mantenere bello sigillato comunque anche il profumo è molto 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 buono e fresco a proposito di risparmio ho fatto una mega haul di prodotti ho fatto un po' di scotto ho approfittato di tanti sconti appena riesco a pubblicare il video appena Angelica me lo permetterà lo girerò ho comprato sono state in tantissimi posti ho comprato poche cose ma in tanti posti quindi una haul enorme comunque senza starmi a dilungare troppo questo è il video questa è la box se vi è piaciuta la vostra questa idea fatemelo sapere datemi tante idee nuove per magari le gradine di Natale se avete qualche idea particolare e ci vediamo presto ciao ciao